Ottimo lavoro, Spyro. Direi che sei pronto per una sfida più seria. Che mi dici di cimentarti con il parapendio? Non soffri di vertigini, giusto? Io non soffro di vertigini, Hunter. Voglio cimentarmi con il parapendio. Grande! Ti trenerò con la motoslip e tu passerai attraverso gli anelli. Non perdertene neanche uno o dovremo ricominciare da capo. Avete sentito, ragazzi? In questo circuito ghiacciato, dopo aver completato il percorso, ora dobbiamo tentare di vincere una sfera in questa sfida segreta. Hunter ci traina con la sua motoslitta, mentre noi siamo su questo deltaplano. Noi dobbiamo volare attraverso 50 anelli. Non dobbiamo mancarne neanche uno, se no dovremo ricominciare da capo. Ci vuole massima concentrazione. Eccoci. Ehi, avevo sentito dire che eri bravo con queste cose. Oh, vabbè. Vuoi riprovarci? Vabbè, riproviamo, ragazzi. Vediamo, anche i tentativi faremo. Il primo tentativo è fallito. Riproviamo. Facciamo il secondo tentativo. Io devo vincere, volando attraverso 50 anelli. Ma c'è un livello di difficoltà difficile. Io non posso recensire video dove ci sono le fasi difficili. Io voglio recensire video dove ci sono fasi facili. Ma questo è difficile. Nessun altro giocatore come me ce l'ha mai fatta. Ecco, un altro secondo tentativo fallito. Ho fatto il secondo errore. Ora facciamo il terzo tentativo. Bisogna tentare. Mi sta venendo un attacco d'ansia, ragazzi. Io mi arrabbio ogni volta che perdo. Io mi arrabbio ogni volta che perdo. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. È finita. È un bel lavoro, Spai. Sei persino più bravo di me. Io sono persino più bravo di Ante. Ora vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E finalmente abbiamo vinto una sfera. Arrivederci. Spero che questo video vi sia piaciuto. Dopo tanti fallimenti. Dopo tanti fallimenti.